Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Ciao! Eccoci con Francesca Lamarchia che ci aiuterà, siamo nello spazio dedicato ai vocalizi e oggi faremo un vocalizzo particolare, direttamente tratto dal film System Act 2 ed è il vocalizzo quello famosissimo. Noi proviamo a farlo come warm-up, cioè come riscaldamento vocale, andando sempre più su. Vediamo il vocalizzo quale, intanto ve lo facciamo vedere, ascoltare. Facciamo le maschette e le femminucce, io faccio il maschetto e faccio la femminuccia, quindi per un maschetto. la 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 così è abbastanza basso comunque andiamo più su bene andiamo avanti la 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 Sì, maggiore. No, maggiore. La, 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 la 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 La, 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 la. bene, facciamo un altro paio facciamo ancora uno vabbè, poi si può andare più su e più giù insomma, questo è il vocalizzo divertitevi, fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video io ringrazio Francesca per averci dato una mano e iscrivetevi su questo canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like così possiamo fare altri video più felici ciao ragazzi, alla prossima